La nostra Caritas diocesana ha accolto una donna eritrea cresciuta in Etiopia. La donna, arrivata il 23 giugno con il secondo corridoio umanitario da Niger, insieme a 45 profughi di otto diverse nazionalità che sono stati accolti da nove diocesi italiane, ha vissuto in prima persona le atrocità delle carceri libiche. Tramite l'UNCR è stata salvata dall'inferno e trasferita in Niger. È molto provata, ma ha anche tanta forza e consapevolezza. La ragazza è la sesta persona, insieme alla famiglia irachena, arrivata a maggio 2021, che la Caritas diocesana sta ospitando, partecipando al progetto dei corridoi umanitari di Caritas Italiana.